salve amici di casa chalet ben ritrovati qui all'atelier tipolo quest'anno ritorniamo con la nostra rubrica sono molto contenta infatti di presentarvi nelle nostre prime rubriche quella che sarà la collezione 2019 quindi le nostre proposte per la nuova moda ovviamente tengo a precisare che la moda per la sposa è un concetto relativo perché noi facciamo tuttora creiamo realizziamo tutto ciò che la sposa desidera per cui anche se fuori moda tra virgolette non deve essere un problema per la sposa deve sentirsi bella per come vuole essere bella la prima proposta che vi faccio per quest'anno è un abito scivolato quindi una linea fresca leggera di georgette di pura seta arricchita da un corpino in trasparenza con tutto un ricamo bellissimo di cristalli sui laterali e al centro questa bellissima questo bellissimo ramage di pizzo macramè ovviamente sempre leggermente ricamato con i seti coralli del bussino proprio per dare quella lucentezza e quella diciamo quel poco di splendore che ogni sposa deve avere il giorno del matrimonio quindi la nostra scelta in questo caso è un abito che rappresenta molto la femminilità quindi si mettono in evidenza le curve si mettono in evidenza le forme femminili ovviamente per chi può sembrare un po' troppo magari quindi per chi non vuole usare ovviamente l'abito può trasformarsi e quindi può tranquillamente tutta la trasparenza andare via e diventare un po' più classico ma questo lo vedremo insieme quando verrete a trovarci tranquillamente noi vi spiegheremo tutto per il momento la bellezza dell'abito resta anche nella sua schiena abbastanza in evidenza e noi che non siamo per il troppo lo troviamo molto bilanciato perché comunque non osa tantissimo ma sicuramente da quel tocco di novità che oggi le spose vogliono assolutamente vedere in un abito da sposa perché si vogliono sentire uniche e speciali quindi mi ricordo che la nostra sartoria è una sartoria su misura siamo anche rivenditori dei più grandi brand del mondo sposa che ormai tutti voi conoscete ma noi puntiamo sulla qualità e questo significa per noi prodotto made in italy quindi grazie per apprezzare sempre come al solito i nostri bellissimi abiti perché i vostri complimenti ci arrivano ci ritroviamo qui alla tele del pipolo vi ricordo unica sede in corso europa villarica